Ritmi alti, grande intensità, agonismo a volte anche eccessivo ma vissuto nel contesto di una partita molto vibrante con tante emozioni. Gli allievi nazionali del Napoli vincono in trasferta contro l'Avellino, sovverto nel destino di una gara condizionata dall'espulsione di D'Ignazio, riuscendo a tronfare sugli avversari in inferiorità numerica anche dopo il momentaneo pareggio di Leandro Spina. Gli Irpini puntavano su aggressività e intensità, era chiaro sin dal forsennato approccio iniziale. Al primo l'ex Napoli Cuomo prova a mettere paura al Napoli, si inserisce sull'out destro e va al cross basso ma la difesa azzurra riesce a sventare la minaccia. Al terzo rispondono gli azzurrini, lancio di Spavone, respingono l'elettroguardo Irpina, sulla seconda palla si avventano Cerino che calciano alla distanza e il pallone termina a lato. Al quarto è D'Ignazio a provarci su punizione, la traiettoria sembra beffarda, la sfera si spegne di poco alto sopra la traversa. Al nono è lo stesso esterno sinistro azzurro a rimedere la prima munizione della gara, per un fallo su Spina. Il cartellino giallo gli costerà caro poi una ventina di minuti più tardi. Al ventesimo l'Avellino affonda sulla fascia sinistra con Manolo Spina che serve Castaldo, il cui tiro è neutralizzato in due tempi da Ferrara. Al ventiduesimo si rivede il Napoli nell'area avversaria. Batti e ribatti, chiude l'azione Otranto con un tiro che si spegne a lato. Al trentesimo l'episodio che spezza l'inerza della gara. D'Ignazio sbaglia il controllo del pallone e nel tentativo di anticipare Castaldo commette fallo in gamba tesa. Di gioia di Nola non ha dubbi e tira fuori il secondo giallo. Napoli in dieci uomini. Liguori decide di non snaturare l'atteggiamento della squadra. Preferisce perdere un uomo a centro campo e affronta la gara con il 4-2-3. Sulla fascia sinistra ci va Riccio, inserito al posto di Spavone. Al trentaquattresimo Otranto tenta di imbucare la difesa dell'Avellino con la verticalizzazione per Negro. Si innesca tanta confusione in area di rigore e la retroguardia Irpina si salva. Al quarantesimo l'Avellino tenta di sorprendere gli azzurrini sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Stacca Avolio ma Ferrara blocca senza problemi. All'ultimo minuto la rima frazione di gioco e episodio dubbio nell'area dell'Avellino. Contatto Procita Avolio. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Nella ripresa il Napoli parte con grande convinzione. L'approccio è quello giusto. Al primo minuto Negro prova a sfondare sull'auto sinistro dell'area di rigore. Con due dribbling ma Carino lo giude in calcio d'angolo. Passa un minuto e il Napoli va in vantaggio. L'azione è splendida. Nocerino appoggia il pallone a Otranto che inventa un'apertura precisa per il taglio di Procita. Bravo ad anticipare il gennale in uscita. Gli azzurrini anche in inferiorità numerica gestiscono bene il vantaggio. L'Avellino va a fare pressione offensiva ma fino al diciottesimo non si registrano grandi occasioni per gli Irpini. Alla prima vera palla gol i biancoverdi pareggiano. Splendido assist di Capitano Avella. Primo errore della coppia schiavi Donnarumma che perdono di vista Leandro e Spina. Lesto a realizzare il gol dell'1-1 in anticipo sull'uscita di Ferrara. Il Napoli non molla che è svolto nel carattere assopito visto in alcune gare nelle scorse settimane. Arriva subito la reazione azzurra. Al ventesimo cross di Procita. Colpo di testa di Schiavi. Parata di De Gennaro che devia in calcio d'angolo. Al ventitresimo l'Avellino è pericoloso con il solito Leandro e Spina che ruba palla a Donnarumma nella tre quarti del Napoli e va al tiro. Ferrara si salva in due tempi. Al venticinquesimo il Napoli torna in vantaggio. Proto perde palla nella propria area di rigore. La raccoglie Otranto che serve Cioffi a centro aria. L'esterno azzurro di piatto a porta vuota riporta i ragazzi di Liguori in vantaggio. L'Avellino incassa il colpo. Il Napoli è compatto e mantiene gli spazi senza mai rinunciare a giocare. Al trentunesimo lancia di Luisa la ricerca di Mentana che di testa impegna De Gennaro. Al trentasettesimo è sempre Luisa il protagonista. Costo costo è il numero due azzurro che parte dalla sua tre quarti, arriva al limite dell'aria e prova la conclusione sul primo palo. Bloccata dal portiere dell'Avellino. Cinque minuti di recupero il Napoli è chiamato a soffrire. Al quarantunesimo ancora Luisa cerca i compagni in area di rigore. Stavolta è Cioffi che va a duellare con De Gennaro che però riesce ad avere la meglio sull'avversario. Al quarantaquattresimo Otranto dopo due assist va a segnare il gol della sicurezza. Il Napoli combatte nei pressi della di rigore il Pina. Poi Cioffi ricopre il ruolo di rifinitore e mette in porta il centrocampista azzurro. Bravo a saltare De Gennaro e a far gol. Non è finita qui. Le emozioni non sono terminate. All'ultimo minuto disponibile l'Avellino butta via la palla del 2-3. Percussione centrale del solito Leandro Spina. Contatto con Esposito per l'abitro e calcio di rigore. Va lo stesso Spina dal dischetto e calcio alto sopra la traversa. Arriva il fischio finale. Il Napoli può esultare per una vittoria conquistata con tutte le armi necessarie. Qualità, cuore, cattività agonistica e cinismo. Arrivano anche tre punti importanti. L'obiettivo è la zona play-off. Da domani si pensa al bar di Le Grottaglie. L'avversario è domenica prossima a Sant'Antimo. N mando anche alcuni. Il Napoli è clico molto più bello! L'avversario è un' tertia, ma anche allora... È staggedo ballé. Grazie a tutti.